Biglietto del bus a bordo con carta di credito ASF Autoline implementa sulle linee extraurbane il nuovo sistema Swap on Lake, il servizio per pagare il titolo di viaggio direttamente a bordo in modalità contactless, con carta di debito, credito prepagata e con smartphone o smartwatch abilitati. Il sistema, già attivo sulle linee dell'area urbana e su quelle del lago C10 e C30, viene steso dunque anche alle nuove linee extraurbane. Utilizzare il sistema è semplice, basta avvicinare la carta di pagamento, contactless, il cellulare o lo smartwatch al validatore verde di bordo alla salita. Se il TAP sarà andato a buon fine, il validatore emetterà un segnale acustico, un segnale visivo verde. Si tratta di una novità conveniente e smart, spiega Massimo Bertazzoli, amministratore delegato di ASF Autoline. È un'offerta aggiuntiva e non sostitutiva dei biglietti tradizionali, per facilitare soprattutto l'utente che sfrutta il servizio per lunghe percorrenze. L'estensione di Swap on Lake ha nove linee extraurbane e solo il primo passo di un progetto a medio termine per la copertura di tutte le linee.